La decisione del governatore Marco Marsiglio di estendere la didattica a distanza nelle scuole secondarie e superiori fino al 100% ci vede concordi anche se ci sono punti fermi che secondo noi sono inderogabili. Così Carlo Frascari, segretario regionale dello SNALS Conf Sala Abruzzo, sull'ordinanza del presidente della regione che estende ulteriormente il DPCM del governo. Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in vigore da oggi 26 ottobre infatti stabilisce che le scuole primarie e secondarie di primo grado restino aperte mentre alle superiori si punta sulla didattica per il 25% in presenza e per il 75% in modalità telematica a distanza. In Abruzzo il presidente della regione Marsiglio ha deciso di estendere ulteriormente la possibilità di attuare la DAD fino al 100% e il professore Frascari chiede che vengano tenuti in considerazione due elementi importanti. Consentire una quota pari al 25% di didattica in presenza sia agli studenti degli istituti tecnici e professionali che agli alunni diversamente abili. Il problema che noi vogliamo mettere in evidenza è questo, cioè bisogna lasciare su quella quota del 25% che il DPCM non ha lasciato alle regioni, lasciare la possibilità per gli istituti di costituire dei gruppi di lavoro per i laboratori degli istituti tecnici e professionali che altrimenti soffrirebbero tantissimo perché la didattica dei laboratori è una didattica in presenza, non si discuta, non è che si può fare il laboratorio stando a casa. E siccome sono stati fatti grossi investimenti anche su questi laboratori, i ragazzi devono prepararsi per l'intero anno scolastico anche in vista per esempio per il quinto anno degli esami di Stato. Ribadiamo che sarebbe importante per quegli alunni, che più di altri ovviamente hanno bisogno di un appoggio didattico, poter in qualche modo frequentare. Adesso è qui entra in gioco l'autonomia della scuola, le scuole possono all'interno dell'autonomia prevista dalle leggi considerare in quali termini, con quale orario e in che modo dare la possibilità a questi alunni più deboli, di poter in qualche modo accedere alla scuola, ai propri insegnanti e consentire anche alle famiglie, se andiamo a ragionare meglio, a consentire alle famiglie di non avere l'intero onere dell'alunno perché questo è il problema anche molto serio.